domani è venerdì 22 agosto la chiesa fa memoria di san fabrizio le previsioni meteo di tele nuova benvenuti più nubi locali rovesci al nord dapprima sull'alto piemonte sull'alta lombardia poi sul friuli a partire dal pomeriggio e su diverse aree interne del piemonte più intensamente tra il nord del veneto e il friuli venezia giulia tempo asciutto e più soleggiato altrove al settentrione alta pressione sole prevalente al centro sud salvo qualche fastidio al pomeriggio sulle marche sull'est della umbria con addensamenti locali rovesci e temporali clima estivo al centro sud con temperature comprese tra i 27 e i 31 gradi al centro i 34 e i 35 al sud più mete al nord con temperature comprese tra i 22 e i 27 gradi l'anticiclone garantirà domani sulla campagna condizioni di tempo stabile il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso salvo locali addensamenti le temperature saranno stazionarie con venti di direzione variabile il mare sarà poco mosso ciao